Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Browstar Signori, continuiamo questa serie, visto che comunque vi piace, mi diverto perché facciamo i casini più totali Quindi va bene così, portiamolo avanti e divertiamoci assieme Signori, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto e per i suggerimenti che mi date in questa serie Vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941 Dove tramite le stories vi aggiorno sugli orari delle live e sulla programmazione dei due canali Perché anche sull'altro sito, quello viola, trovate una live al giorno alle ore 18 Quindi sintonizzatevi così, non vi perdete nessun contenuto, sempre che vi faccia piacere Se non vi fa piacere dico, è stato un piacere conoscervi e vi auguro tante cose belle a voi e alla vostra famiglia Detto questo signori, partiamo con il video Mi sono un attimino perso nelle chiacchiere Allora signori, l'ultima volta, l'ultima volta il cavolo Allora, intanto partiamo dagli amicizzi Vedo gli amicizi, cosa sono gli amicizi? Le amicizie, ecco la E Vedo che c'è una richiesta d'amicizia Che accettiamo? Deadly Rank con 1205 coppe Complimenti amico mio Bravo Tu hai un sacco di coppe Il mio ID lo vedete a sinistra Quindi chi mi vuole aggiungere me lo può fare Spero un giorno di riuscire a fare qualche live anche su Brawl Stars Cosa molto difficile perché penso mi esploda il telefonino Allora, Brawler Possiamo forse potenziare qualche Brawler Signori, potremmo potenziare Bull 75 monete, le possiamo spendere Così, signori I soldi ci sono e vanno spesi E Bull l'abbiamo potenziato Poi Chi potremmo potenziare? Jackie Dai, la nostra Jackie Operaia Dai così, opera, sì Opera, sì Vabbè, potenzia lì Dai così Spendi, spendi tutto lo spendibile Non c'è più nessuno che va potenziato? Va bene, ok Io ero pronto a fare chissà che cosa Però va bene Abbiamo un Brawl Pass nuova Che vuol dire nuova? Missioni, ricompense Possiamo aprire qualcosa? No Non possiamo aprire un cacchio Allora, vediamo un attimino le ricompense, signori Le missioni C'è qualche missione con Frankenstein? Sì, sì Vincio 8 partite con Frankenstein Ok Voglio fare queste, signori Voglio fare le mie bellissime missioni con Frankenstein Mi avete detto che è molto forte Nel Nel In Nei commenti Mi avete detto che è forte E quindi voglio andare a giocare con Frankenstein Do sta, Frankie? Dai, Frankie Lo posso migliorare? No, ancora no Frankie, seleziona Dai, Frankie, con le cuffie Il rapper Frankie DJ, signori Abbiamo Frankie DJ Andiamo a giocare a calcio Vediamo se È il suo ambiente di 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 gioco Vediamo Allora Io non ho mai giocato con Frankie Come funziona Frankie? Cosa fa di bello? Dio, le martellate quelle pesanti Però, ok Vai Frankie Dai così Frankie Porca miseria Se Frankie si arrabbia è pesante Do stai David E se faccio il super colpo? Ok No, no Quelli ce ne stanno andando No, no, no È un po' lento Frankie 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 è un po' lento Però Stepito lo stesso Vieni qua Vieni qua che stepito lo stesso Vieni qua che stepito lo stesso Dai così Mi ha fatto fuori Mi ha fatto fuori No, no Dai così Mamma mia Ma Frankie è immortale Signori Frankie è una bestia Frankie è una bestia Signori Li abbiamo distrutti tutti Ci siamo completamente disinteressati del pallone Frankie 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 DJ Frankie Non ce n'ha per nessuno No, siamo morti Però abbiamo Qualcuno ha segnato Va bene così Va bene così Abbiamo Qualcuno della mia squadra L'ha segnato Va bene così Frankie Frankie È assurdo Non lo fermi nemmeno con Con le esplosioni Quelle pesanti Guarda Frankie Contro l'Orso Glioghi Guarda Frankie Contro l'Orso Glioghi No Scontro fra titani Signori Ha vinto l'Orso Glioghi Questa me la segno Questa me la segno Oh 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 È soddisfatto Frankie è soddisfatto Ma Aspettate No, no, no Mi deve andare a vendicare Contro l'Orso Glioghi Non esiste questa cosa Non esiste Che lo Oh, no È finita la partita Dai Devo vendicarmi contro l'Orso Glioghi Siamo stati migliori Grande Frankie DJ Alza le mani Se tifi Per Frankie DJ Bello così 1-0 Prendi e porta a casa Addirittura Sconfiggi i 24 nemici Causa danno Vinci 8 partite Usciamo Pidiamoci questa caterva di monete Signori che penso Mi sblocchi il mondo Dai, ecco sì Due brawl pass subito Senza così Senza pensarci troppo Andiamoci a fare un'altra partita Frankie DJ è troppo forte Signori Abbiamo trovato il nostro nuovo personaggio Frankie DJ alla console Alza le mani Se vuoi un pezzo Di Frankie DJ Un pezzo Lui te lo dà in fronte Il pezzo Maledetto Allora Questo C'è Burattino Che Sta a tirare E io Vi faccio la combo Vi ammazzo tutti Vi faccio la combo Vi ammazzo tutti Qual è il problema Tu ne puoi Ce n'è pure per te Non ti preoccupare La super combo Eccolo Beccatela lì Burattino che vorrebbe fare Chissà che cosa No mi ha eliminato Burattino Io mi sto completamente Disinteressando della palla Signori Diciamo che forse Non è più lo sport indicato Del gioco del calcio Per Frankie DJ Dovremmo andare a dare La sopravvivenza Ma 1 a 0 per noi La nostra squadra Si è già portata In vantaggio 1 a 0 Frankie DJ Con la sua bella mazza Che detto così Non è bellissimo Però Dai così Dai così Frankie Frankie Guarda quella Che ci sta 2 a 0 Signori Non ce n'è per nessuno E siamo ancora i migliori Mamma mia Signori E chi lo leva più Frankie Deve diventare una bestia Signori Frankie deve diventare una bestia Dobbiamo migliorarlo Come se non ci fossero domani Dobbiamo migliorarlo Come se non ci Vinci 5 partite Vinci 8 partite Noi riusciremo a farle tutte oggi Facciamo un'altra Signori Facciamo un'altra partita Con il nostro Frankie DJ No ho sbagliato Devo fare sopravvivenza No calcio Ho sbagliato Ho fatto la terza partita Sul calcio Devo fare sopravvivenza Devo fare raccogli gemme Ho sbagliato Ho sbagliato Eeeh Attenzione Qui la vedo dura Qui la vedo difficile Quella si è salvata Per un bucio di Non mi fate dire che cosa Perché sennò poi Risulta essere Offensivo Però Sono andati in vantaggio 1 a 0 per noi Scusami che c'ho Un attimo Un conto in sospeso Con la tizia Quella di là Cortesemente Li elimini tutti Frankie DJ Grande Frankie Grande Frankie Non ce n'è per nessuno Non ce n'è per nessuno Frankie 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 2 a 0 Doppietta di Efe Tre vittorie su tre Signori Efe migliore in campo E giustamente Mi sembra anche giusto Ha fatto tre gol Ha fatto due gol Quindi anche è giusto Che sia lui Migliore in campo Piliamo tante belle monetine E facciamo l'ultima Signori In sopravvivenza No 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 Per vedere se Frankie Riesce a dare il meglio Di sé anche in sopravvivenza Dopodiché andiamo a parire Due brawl pass No in sopravvivenza Scusate In afferragem Vediamo se Ho un attimino Storpiato i nomi Delle modalità In afferragem Vediamo se Frankie 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 DJ Riesce a dare il meglio Anche di sé Anche in afferragem Dai così Sub Che fai Si nasconde Si nasconde Signori Vi stermino io Non vi preoccupate Vi stermino io Non vi preoccupate Ma qui non c'era qualcuno nascosto No non c'è sta Eccolo Sapevo che c'è stava Quello nascosto Bastardo C'è stava il tizio nascosto C'è stava il tizio nascosto No Mi hanno ammazzato Mannaggia Mannaggia Mi hanno fatto fuori Mi hanno fatto fuori Mi hanno fatto fuori Quello si era nascosto Per non farsi vedere Dai così Siamo 6 a 0 Uh Che ci fa qua Dai così Dai così Super colpo Super colpo Frankie DJ Mettete il pezzo degli anni 80 Che non ce n'è per nessuno 6 a 0 6 a 0 Dai così Dai così Dai così Sul messicano pazzo Dai così Su tutti Signori Non abbiamo problemi a affrontare nessuno Mannate Siamo morti 8 gemme a 0 8 gemme a 0 8 gemme a 0 Dai 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 Conto alla rovescia Abbiamo raggiunto le 10 gemme Sì Abbiamo raggiunto le 10 gemme Signori Scusa Scusa Ehi Ehi Dove stai andando Dove stai andando Signori Qui ci possiamo stare solo noi Se Frankie DJ dice che la partita è finita La partita è finita Signori Non ce n'è per nessuno Non ce n'è per nessuno Partita finita 11 a 0 Mamma mia Signori Frankie L'asfaltatore Lo potremmo anche chiamare Non siamo stati migliori in campo Però non è importante L'importante era portarci a casa la vittoria Oh Alte ricompense sbloccate Che cosa carina Tante belle ricompense sbloccate Va bene signori Abbiamo trovato il nostro nuovo personaggio Frankie DJ Alla console Non ce n'è per nessuno Se c'è lui in console Andiamo ad aprire Brawl Pass Signori Vediamo se Troviamo qualche altra cosa di interessante Dai così Trovassi dei punti di energia Già subito per Frankie DJ Sarebbe tantissima roba No Troviamo punti di energia Per Little Tony Punti di energia Per l'Ubriacone di Roma E punti di energia Per il re misterio Niente da fare Ok va bene Vediamo l'altra cassa Una cassa Brawl Che questa mi sembra molto scarsa Come possibilità di trovare qualcosa Monete Ok Punti di energia Per Gekil Operaia E punti di energia Per l'Ubriacone di Roma Va bene Ok Possiamo potenziare qualcuno Spendiamo qualche soldo Signori Spendiamo qualche soldo Che forse è la cosa giusta da fare Andiamo su Brawler Spendiamo qualche soldo Possiamo migliorare L'Ubriacone di Roma Dai così Che sale a livello 4 Ok E poi Nessuno Non possiamo migliorare nessun altro Stop così Stop così Va bene signori Detto questo io vi ringrazio Vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao